Non intende rilasciare dichiarazioni il sindaco di Cassola, Aldo Maroso, dopo la notizia della chiusura dello sportello dell'Unione Consumatori di San Zeno e le dichiarazioni del suo presidente, Antonio Tognoni. Il primo cittadino raggiunto telefonicamente dice di non voler creare polemiche sulla vicenda e tiene però a precisare che non si tratta di una revoca ma della scadenza di un contratto annuale che per 17 anni è stato tacitamente rinnovato. L'ufficio, dato incomodato gratuito all'associazione che nel tempo è diventata un punto di riferimento per tantissime persone del territorio, ora dovrà essere sgomberato entro il 31 dicembre 2022. Maroso lascia l'ultima parola al prossimo Consiglio Comunale quando la questione verrà discussa per capire se l'Unione Consumatori potrà continuare con il suo operato in piazza San Zeno o se il Comune destinerà ad altri usi le stanze sopra le poste. Di sicuro il presidente Tognoni ha garantito battaglia, non starà a guardare e farà di tutto perché la serie dell'Unione Consumatori non venga chiusa.